Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'era la targa di Gisietto Pappalardo da qualche parte. Ah, qua è. Sapete che è Gisietto Pappalardo? No, veramente no. Io ricordo che c'era. Gisietto Pappalardo era il pane della Seconda Guerra Mondiale, morto in Albania. C'è la mia foto, la foto carta. C'è la mia foto, la foto carta, documenti. Qua i lavori sono iniziati e poi li hanno interrotti? Non sono finiti più. Qua sono finiti i soldi. E si scende. Vediamo l'altra per come si va. Qua se l'altra è chiusa. Andiamo. Vado a tutta di qua. Ehi, qua c'è il ragazzo. Qua c'è un ospite. Ok, prendo un po' un po' piccolo. Prendiamo la testa. Siete scesi qua sotto? No, prima volta. Ah. Prima volta è qua sopra. Guarda che bello qua sopra. Comunque qua sopra è un genetico. Qua c'è una prima meraviglia. Cornici. Madonna. Porte di legno. Cornici. Questa cosa è? Del sfumatore forse. Del sfumatore. Certo, per le cornici. Cornici come si deve. Abbandonate, rotte e ammarcire. Vabbè. Vedendo questa volta ci puoi scendere? Certo, scendi. Sto già la testa. Prova il fresco. Sto bene. Molto acqua c'era. Ti posso dare qualcosa? Sì, eh. A te sto aspettando. Caschiamo tutti e due ci lasciano qua sotto. Eh? Non è bello? Ma qua inizia che ci dovrebbero fare? C'era una classe. Quando si potono fare? C'era? C'era una classe. 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 Ma non è passata neanche tanto tempo. Vabbè, hanno rinforzato i tirassi. Almeno usino un'ongrolla. Bello, vero? Dai che bello. Suggestivo, direi. Non è beccato che si è lasciato così? No, qua dico che uno... Dato che comunque la ciriata, che cosa ne dica, manca di spazi pubblici, museali. Illuminata. Qua c'è Nelva. Ora su YouTube. No, su YouTube vorrei evitare perché non ho... Ah no, su YouTube va bene. Ok, ci sono. Ma hai visto che la ciriata manca? Manca di spazi museali o di incontro. Insomma, lasciare tanto spazio così... Quindi tu qua ci vedi spazi di cultura. Eh, ci lo si. Paolo? No, condivido. Spazi di cultura, spazi sicuramente... No, non lo so. Spazi di cultura. Spazi associativi. Associativi, museali. Insomma, ci sono tante cose che abbiamo da... Tante cose. Tante cose che non ci sono. Tanto c'è quest'altra cosa strana che non ho mai capito che cosa serve. Attumulare le persone oppure fare la pizza? Forse è una pizzeria allora qua. Una pizzeria. Là ci sono altri locali. Vabbè, impiantistica, vai. C'è, impianti. Però simbatico. Insomma, non è male se posso. Insomma, non è male se posso. Io ho un museo qua anche... No, questo qua è della biblioteca, no? No, sembra della scuola. La Zerenda è a fianco. È a fianco. Quindi questi locali sono del comune? Del comune, sì. Certo. Che li stanno restaurando. Va bene. Ce ne saliamo? Prima che ci chiudono qua dentro. Lì? Là c'è anche il murato qua là. Ma io mi ricordavo che dicevano... E' il murato qua. Qua si passava da un'altra parte. Dicevano che qua era un collegamento con le altre vie sotterranie di Cireale. Ma proprio inizierà che colleghiamo. Guarda che io lo so. Beh, forse inizierà. Non mi ricordo un po' di roba. Comunque non è male se posso. Allora... No, no, scusami. Così impidi. Ma c'è anche una borsa. C'è anche una borsa. Da un'epoca. Comunque questi cornici qua dove le vendere. Ma è un bel caro. Perché stanno porte comunque. Però queste. Cos'era? Beh, stanno una porte comunque. Comunque questa cosa c'è qua sotto. A che botta vengo qua e mi spalo tutto? Tanto. Ti posso dire grazie che un pochettino è sbarattato perché... Vabbè, sopra ci stanno qua. Ma adesso che secondo me pochissime persone sono... Scusa, gli operai che ci lavoravano sono meno di qua. Ah, ma si conosce questo posto. Ma tipo, non è che l'assessorio mi è entrato qua. Assessorio? Non voglio parlare dell'assessorio. Perché il chiosso del Gulli e Penne si sta cadendo a pezzi. È sporco. E non può essere usato, fruito come si deve. Salutiamo. Arrivederci.